Sindaco, Ospedaletti ha subito un altro grave danno dovuto al maltempo. Questa mattina è stato addirittura necessario fare evacuare le scuole. Ci può spiegare esattamente che cosa è accaduto? Niente, nella notte evidentemente noi non ce ne eravamo accorti perché non c'era nessuno, essendo sabato e domenica le scuole erano vuote. Poi stamattina arrivando il responsabile si è reso conto che c'era un movimento, era franato una parte del muro dell'ala sud della scuola. Siamo intervenuti immediatamente per vedere che cosa era successo e ci siamo resi conto che in verità non è solamente il muro di contenimento della scuola di per sé, ma anche il grande muro di sostegno a nord delle tribune del campo di calcio. E quindi abbiamo visto che ha ceduto tutta quella parte. Il muro è sceso e nello smottamento la terra di fatto si è tolta al di sotto delle fondazioni, quindi sono rimaste appese le fondazioni dell'ala sud della scuola. E quindi è stato necessario evacuare perché presentava già alcune crepe all'interno stesso di quella che viene chiamata la serra, insomma. E quindi non è possibile lasciare qui i bambini in quanto non riusciamo ancora a capire adesso qual è la portata di tale fenomeno e se interessa tutta la scuola. Secondo noi probabilmente l'ala nord è ok, ma è necessario avere una perizia per essere sicuri che sia appunto sicura l'ala nord. E a questo punto oggi faremo muovere tutti, mentre invece prossimamente se ci darà dato il via libera, perché riteniamo che sia sicura l'ala nord, i bambini potranno ritornare una parte di essi e l'altra parte invece verranno comunque evacuati perché non è possibile utilizzare tutto il plesso scolastico.